Lì arriva, lì dopo chi lo sposta? Lo spostiamo, taglialo qui, si è fuori dei coglioni. Figaro sempre più grosso. Lo spostiamo pulito e lo tengiamo pulito. Al contrario, taglia troppo, porca loca, fa fatica. Sì, dovrei girare. Vabbè. Ormai sì. Sì, perché effettivamente giro, 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 giro. Molto forte. Benezza. Sicuramente, bravo. Almeno così ci passiamo decentemente. Ce n'è un altro? Presta. Presta. Vai, vai mago che tu sei forte. Sei forte. E se tagli con la lacca di giorni. A posto? Allora, l'hai lasciato a posto che lo sai già che io prendo dentro qua. Tu. Anche la capota. E fa camminare le canne. Bravo. Ma come tanti? Prima te lo tirano in alta, poi ti giro. Eh sì, eh. Ascolta. C'avete il casco? L'assassino com'è? No, non c'ho voglia. E' un po' qui che ti scivola la ruota davanti e li vai addosso sia. Vaffan bagno oh. Eh no, metti che vieni qua. Fai così Jack. Dai, ma è grosso, non c'ho voglia. Non c'ho voglia. E' anche duro. Come cagli hai fatto a tagliarle? Figaro. Cioè? Tutte le batterie della Machieta. Tutte le batterie. Ma che? Questo non mi frega niente. Dai. Non esagerare. Che te frega. Dei lasciare qualche... Già fuori.